Il presepe nei tempi, nella chiesa di San Zaccaria in Caolonia. Il primo presepe rappresentato Caolonia, trovati il bambino Gesù buttati in mezzo ai rifiuti, come tante mamme abbandonano i loro figli nella nettezza urbana. Il secondo rappresentato Torino, in un'ampora, con un salmo biblico, ho sete di te, Signore. Presepe con messaggi di speranza, Caolonia ancora, no alla clonazione, perché solo Dio è uno e trino, no al traffico degli organi, alla donazione degli organi sì, ma non al traffico, no alla speculazione sulla salute pubblica, un no deciso alla guerra, ancora un no all'Italia divisa come la vorrebbe Bossi in tanti staterelli, perché l'Italia vuole dire no alle tangenti. Finalmente un sì totale lo diciamo a Gesù che porta la pace. Paolonia ha fatto questo presepe con il telescopio. Per vedere Dio non c'è bisogno di prendere questo strumento, basta guardare il volto di un uomo onesto e là c'è Dio. Il presepe con sapone da bucato, notate come ha realizzato bene i pastorelli e poi con tappi di suvero le tegole. Anche l'altro presepe natile con le pinzette. Caolonia l'ha fatto col danaro, dicendo che quello non costituisce felicità per l'uomo, l'ha dimostrato Gesù nascendo povero. Monreale ha fatto il presepe su una corona imperiale e è nato il vero re del mondo. Un ragazzo di una frazione di Caolonia, dove non ci sono negozi, per realizzare il presepe che vediamo l'ha fatto con la Ianda e che abbiamo di fronte viene dall'Africa. Il tec nero, come lo fanno gli africani. Poi la città di Gioiosa l'ha fatto con due mani, con tanto grano. Ti presentiamo il frutto del nostro sudore, o Gesù. In un cestino l'ha fatto Caolonia, presepidea. Ancora Caolonia l'ha fatto in una maglia, fa che a nessuno manchi il pane. Bovalino l'ha realizzato su un'attacca panni, attacca la tua vita ai valori sociali, etici, religiosi. Tutti in alimenti l'ha fatto ancora gioiosa. A base il pane, le vie di lenticchia, i pastorelli di provala, le montagne di panini e di noce di cocco, e di noce di dependenti, ti presentiamo il pritettore